Di fronte alla tragedia della marmolada, la buona notizia è che anche quelli che fino a un paio d'anni fa continuavano a negare il riscaldamento climatico, ormai si sono rassegnati. Oggi si limitano a scaricarlo sugli altri. Come titolava il giornale, i veri responsabili del riscaldamento sono Cina e India. L'Occidente non può fare di più. E allora forse vale la pena fare un riassuntino partendo dalle basi. Santa Madonna, manco le basi del mestiere dei ricordi. Ma che cazzo arti, oh! Primo punto, India e Cina, è vero, emettono tantissimo. E grazie al cazzo, sono 3 miliardi. Emetterebbero tanto anche se vivessero tutti nelle grotte, si vestissero con le pellicce di orso e si nutrissero di bacche. Ma quanto emettono in media a testa? Mille, mille, 64 cifre. Perché il parametro dovrebbe essere quello a regola. A meno che non si dica chiaramente che non essendo bianchi e cristiani non hanno i nostri stessi diritti. Prendendo le emissioni pro capite, allora, si scopre che ogni cittadino statunitense in media è responsabile per l'emissione in atmosfera di oltre 14 tonnellate di CO2. Un cinese supera di poco le 7, un indiano ha malapena le 2. Ma anche questo è un dato parziale e in parte fuorviante. Perché se la Cina oggi emette così tanto, è perché tutto l'Occidente negli ultimi 30 anni ci ha delocalizzato tutte le produzioni che non gli garbavano tanto. E allora, giusto per essere un minimo equi, sarebbe il caso di calcolare l'impatto pro capite in base a quello che consumiamo, più che in base a quello che produciamo. E a quel punto il confronto diventa impietoso. Con gli Stati Uniti sopra le 22 tonnellate, Italia, Francia, Germania e Giappone, tutti compresi in una forbice tra le 10 e le 15, e la Cina, udite udite, ferma a 3, quasi un decimo. Ma non è finita qui, perché la CO2 in atmosfera si accumula e quindi noi paghiamo il conto perché è inquinato negli ultimi due secoli, non solo nelle ultime due settimane. Da questo punto di vista, secondo uno studio pubblicato nel 2017 dal New York Times, gli Stati Uniti avrebbero esaurito la loro quota di emissioni addirittura nel 1944. E secondo i due economisti di Princeton, Gene Grossman e Alan Kruger, inoltre, i paesi sviluppati hanno cominciato a introdurre qualche limitazione alle emissioni delle attività produttive, in media, quando il reddito pro capite, calcolato a parità di potere di acquisto, aveva superato i 17 mila dollari l'anno. Per gli Stati Uniti questa cifra sale addirittura a 28 mila euro. La Cina ha cominciato a intervenire quando era ancora sotto i 10 mila. E come ha recentemente rilevato uno studio dell'Istituto di Politiche Energetiche dell'Università di Chicago, che non è esattamente l'ufficio propaganda del Partito Comunista Cinese, la Cina ha impiegato appena 7 anni per ridurre le sue emissioni, tanto quanto li usa sono riusciti a fare in tre decenni. Insomma, è sempre il bue che dà del cornuto all'asino. Tant'è che a un certo punto era stato anche riconosciuto e nel 2009 i paesi sviluppati si erano impegnati a mettere sul tavolo 100 miliardi l'anno per finanziare la transizione ecologica nei paesi in via di sviluppo. È solo una frazione di quanto dovuto e necessario, ma comunque era un bel segnale. Peccato che a 13 anni di distanza quella cifra non sia mai stata nemmeno lontanamente raggiunta. Di tutto questo e di molto altro parleremo in diretta sul nostro canale Twitch domenica 10 luglio, a partire dalle 21 con il climatologo Luca Mercalli. Ma soprattutto, di tutto questo dovremo parlarne sempre di più nei mesi a venire, perché la catastrofe climatica è destinata a impattare sempre di più sulle nostre vite e non sarà lo scaricabarile dei media suprematisti ad offrire una via di uscita. C'è bisogno di un nuovo media che parta dalla consapevolezza che da questo disastro si esce solo tenendo conto delle esigenze di tutti. Aiutaci a costruirlo aderendo alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe. Troverai tutti i link nei commenti e nelle bio.